Domani da un lato c'è il Partito Democratico in un ennesimo episodio dei suoi attorcimenti neurotici, sull'orlo di una crisi di nervi, non sappiamo che sarà del PD, dall'altro c'è lo statista Berlusconi che a Brescia lancerà l'ennesimo proclama per l'impunità dei ricchi e dei potenti di cui egli è espressione garante, noi nel nostro piccolo Piazza Santi Apostoli nel pomeriggio, domani, una manifestazione intitolata La Cosa Giusta con grandi personalità della sinistra, da Gad Lerner a Stefano Rodotà, Concita De Gregorio e a tanti altri, a provare a rimettere in cammino il popolo del cambiamento, la gente che non sopporta l'offesa di un governo di salvezza nazionale nato in commistione con gli affossatori del Paese.